Sulla nostra regione nei prossimi giorni sono previste ancora condizioni di stabilità atmosferica anche se ci sarà il passaggio di un debole fronte nella giornata di Natale. Per il giorno 24 per la vigilia ci aspettiamo un cielo in prevalenza poco nuvoloso per la presenza di velatura in quota, ancora in versione termica, soprattutto nelle ore notturne, in pianura e nei fondovalle montane con temperature più basse rispetto alle quote più alte. Durante il giorno temperature emiti intorno ai 10-12 gradi. Per quanto riguarda il giorno di Natale avremo variabilità per il passaggio di questo fronte veloce che però non porterà a precipitazioni, lieve calo della temperatura in quota ma sempre con valori al di sopra della media del periodo. Potrebbero formarsi nelle ore nottune delle foschie, soprattutto sulla bassa pianura occidentale verso il Veneto. Il giorno di Santo Stefano torneremo a avere cielo sereno, una bella giornata, ancora molta in versione termica, temperature notturne sotto zero anche in pianura e di giorno sempre valori intorno ai 12-13 gradi. Tempo ancora stabile anche nei giorni successivi, un po' più freddo fra il 27 e il 28. Buon Natale a tutti!